Presso il Forum Monzani di Modena Biper ha presentato il volume Dieci anni di passioni, 2009-2019, Forum eventi, incontri con l'autore edito da Franco Cosimo Panini, editore, un libro che testimonia un decennio di eventi culturali di altissimo profilo, la cui risposta da parte del pubblico rimane una rarità in Italia. Spesso gli scrittori che in passato si trovavano a presentare i propri libri in incontri in cui c'erano 40-50 persone quando si trovano davanti il nostro pubblico spesso fatto di mille, 1500 persone, trovano una dimensione nuova e diversa, ci fa piacere. L'importanza del Forum per la cultura italiana, io giro abbastanza il nostro paese e devo dire che un'iniziativa come il Forum con una platea di migliaia di persone il calore, la qualità degli interventi non mi viene in mente adesso, è così. Quindi è notevole, è notevole proprio per quella capacità di far sì che un'esperienza elitaria come quella della cultura diventi anche popolare e noi abbiamo bisogno di questa fecondazione. Presente all'incontro anche una figura imminente dell'editoria modenese e nazionale, Teresa Panini, editore del volume a cura di Biper. Non c'è nulla di più bello per un editore di poter pubblicare libri sulla lettura e su altri libri. Un lavoro complesso, un lavoro soprattutto corale perché ovviamente oltre alla casa editrice Biper con il suo staff ha seguito passo passo il libro e la produzione del libro e quindi devo dire che è stato anche interessante.